dimmi e niente ciao sono Filippo sono qui a Pattaya in internet avevo letto del vostro di questa offerta di camere e quant'altro niente vi ho contattati mi avete proposto queste camere bellissime pulitissime una posizione tra l'altro anche tranquillissima dove hai tutto quanto a porta di mano hai la bicicletta hai tutti i passaggi da male non manca niente niente quindi ho trovato benissimo ciao